Nomura presenta AICSV. Nessun compromesso per questo concentrato di tecnologia. 11 pionokuscinetti in acciaio giapponese. Frizione maggiorata su dischi in carbonio. Corpo e rotore in metallo. Alberino ingranaggi in acciaio inox. Pensato e testato nelle situazioni più impegnative ed estreme. Il compagno ideale per un duro utilizzo saltwater. AICSV. Tecnologia pura. Made in Nomura. Nomura. Spinning Obsession.